da solo me li apri il congelo da solo, a me è lì teno, vedi, vedi vedi, vedi, vedi vedi, togli, togli vai, la madonna vai, la madonna, vai, scala, scala cinti o nemmeno ah, svegli si può dare una mano intervento del sommazzatore Enzo questo è l'esubero che diceva il direttore della Solical è l'esubero stai attento però a farti scherzi l'acqua è fredda è l'esubero che è rotto? è l'antimo dell'acqua buon amore teatro, bella posiatura questa è acqua pulita? si si, è acqua della condolta almeno quella ho chiuso la zona al pinesco numero uno bravissime bravissime risolto bravo 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 bravo